Allora, mister Iorio, c'è la conferma da parte della società di ripartire da un progetto purtroppo interrotto causa Covid, si parla tanto di giovani, una bella responsabilità guidare il gruppo Juniores che poi sarà il gruppo che dovrà fornire la possibilità di avere dei giovani interessanti anche alla prima squadra. Allora, io ringrazio la società che mi abbia riconfermato. Naturalmente l'obiettivo nostro è quello di far crescere i giovani per trasmetterli e darli alla prima squadra. avendo anche un allenatore su di noi, di categoria, che lavora molto con i giovani. L'obiettivo mio sarà quello, quello di portare i giovani nella prima squadra se il primo non ne avrà bisogno. Spesso alcune società percepiscono la Juniores come un obbligo, invece ha dimostrato con diversi esempi già portati nella prima squadra che può essere un'opportunità. Da dove si deve ripartire sotto questo punto di vista? Si deve partire dalla riconoscenza della parte prima dei giovani che si sacrificano perché hanno voglia di giocare a calcio. E poi il fatto che noi abbiamo bisogno dei ragazzi del territorio che possono andare in prima squadra e aiutare i comuni e aiutare tutto il territorio a poter intraprendere la propria strada. Si incomincia dalla base portandoli su piano piano, facendoli crescere e dargli tanta fiducia. Non dobbiamo mai temere di vingere o di perdere. Noi l'importante è crescere e farli crescere bene. Avete già avuto una chiacchierata con il mister e con il tiki-taka, insomma sarete voi in mezzo tra prima squadra e settore giovanile. Quindi c'è già una sintonia con loro? Allora io ho la fortuna di conoscere il mister Palmieri già da parecchio tempo. So che lavora bene con i giovani, so che persona è, che è un mister che dà la possibilità ai giovani di crescere e fargli crescere. Qual è il spirito per affrontare questa avventura? Lo spirito è tanto, anche perché siamo fermi da un anno. Abbiamo tanta voglia di riprendere il calcio e voglia di far vedere il nostro valore e il valore dell'Orta Nuova.